Sai Archie in Ancona? Tutti i sabati mattina c'è l'altro mercatino Ah bu, ti va giù da là e distrailo dopo lo sgranfigno io Donne, vago via eh! Oh questa inguria è mio! Non c'è provasta? E che pettato? Oh bella signorinella da guia! Non ti serve un coccio fatto a me? Oppure due patate dell'orto mio, due pere di stagione, un pagione senza trattamenti? Ma non vedi che è venuta qui perché vuole una culanina o un guatto da farosto per cena o migraia Signorinella da guia me compra una mela Oh fiore, te la regalerà una mela signore Oh parte coiune, ecco sto qui a gambiaria Tranquilla, ci penso io Vorrei ricordare che sono bancarellato con le mare Incazzareci qui E te sta bene ma? Però ti scureggia il cervello O state il tuo che ti apre come un muccio Per maloso lui Oh ti devo dire una roba in serie O anche voi altri dell'altro mercatino d'Ancona C'ave la roba buona un bel po' Naturale, genuina, fresca Ce sa pure i cammelli Vero coca? Grazie 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 Grazie